se ce l'ha fastidio dopo, voglio, ieri arriva il nostro cat non vale, non vale non vale, però, ieri non vale ma quello va a minimo a minimo ma che c'è fatto te l'ha fatta apposta, bravo aspetta è un po' magista fisico, non metto qui iniziamo, a prenderci dentro arriva il nostro wrangler si avvia per il sentiero e dopo di lui solitario